Ed eccoci con voi, allora vi presento l'ospite di questa mattina, Monsignor Luciano Nobile, vicario del Vesco per Udine e l'Interna. Buongiorno Monsignore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, senta, intanto, l'ultima notizia, visto che si dice sempre che c'è carenza di sacerdoti, visto che è area anche di sua competenza, ieri c'è stato il saluto, l'ingresso a un nuovo sacerdote a Pazian di Prato. Sì, don Ilario Virgili che è entrato come parroco nella parrocchia di Pazian di Prato, in chiesa di San Giacomo, ecco, dopo la morte di don Luciano Liusso, che abbiamo ricordato anche ieri con tanto affetto, perché ci è stato portato via durante l'estate. Allora, questa era l'attualità, il lockdown non ci ha lasciato, vediamo i dati, ma insomma non è proprio così sconosciuto. Lei durante il lockdown ha avuto tempo per poter mettere giù delle riflessioni, spieghiamo su cosa. Beh, innanzitutto ho cercato di mantenere una relazione con le famiglie, in modo particolare con gli anziani, con i malati e con i bambini, per cui ogni settimana intervenivo mandando un messaggio a tutti, lo mandavo alle famiglie, avevo circa 300 indirizzi e mail, potevo colloquiare, dialogare un po', mandando un messaggio e chiedevo anche delle risposte, in modo particolare c'erano i bambini che rispondevano, simpatici, insomma che ho voluto registrare anche questi interventi da parte loro, come avevo chiesto anche a loro di fare dei disegni per sentire, per vedere come loro immaginavano ecco questa aggressione del virus. Ecco, quindi che riflessioni sono uscite? Paura? Beh, un po' di tutto, mi ricordo che quello che scrivevano i bambini, erano contenti di restare in famiglia insieme, perché vivono diverse ore insieme, col papà e con la mamma, qualcuno segnalava questo, altri dicevano logicamente ci mancano gli amici, ci mancano gli altri bambini di scuola, non possiamo venire al catechismo, insomma questa vita di relazione, ecco la sentivano anche i bambini, oltre che gli adulti naturalmente. Senta Monsignor, lei ha scritto un libro dove si parla di Santiago de Compostela, e poi in quella borsa che vedo io, non c'è la copertina ma ci sono già 100 pagine, nelle quali ha scritto che cosa? Sì, l'origine è stata questa, già nel 2013 ho fatto il cammino di Santiago in bicicletta, e dopo l'ho descritto così ai parocchiani di domenica in domenica e poi ne è uscito un libro, ecco è stato pubblicato in quella circostanza. Siccome era stato gradito questo intervento, diciamo, scritto, tanti parocchiani mi chiedevano perché non scrive anche di quest'ultimo pellegrinaggio che ha fatto, ho fatto il pellegrinaggio a piedi da Oviedo fino per le montagne fino a Santiago. Sono 300 chilometri che abbiamo fatto insieme con altri amici. Ed ora inizialmente, sì, ero così titubante, però ho visto l'insistenza e ho trovato il tempo proprio durante il coronavirus di poter scrivere queste riflessioni, questo racconto che è esperienziale, ecco. Non sono cose inventate o di fantasia, quello che ho provato e quello che ho vissuto, gli incontri che ho potuto avere durante questo pellegrinaggio, che è diverso dal primo, perché il primo era così divertente anche per me, perché andavo con la bicicletta, mi fermavo quando volevo, eccetera, al di là dei momenti di preghiera in cui mi trovavo con gli altri amici, poi ero libero, no? La fantasia correva, associazioni di idee, di quello che vedevo, quello che vivevo, eccetera. Invece questo è stato più, direi, tra virgolette, più pastorale. Il primo è stato per me, il secondo non è stato per me, è stato per la mia missione di sacerdote, perché portando la croce sul petto si accorgevano che era qualcuno che aveva a che fare con la chiesa, no? E allora diverse persone mi hanno interpellato lungo il cammino, per cui è stato così, direi, più impegnativo, non faticoso, beh, faticoso un po' per le montagne, ma faticoso perché mi venivano proposti i temi, diciamo, più interessanti, direi più misteriosi, diciamo, della vita, le difficoltà che le persone provano, le motivazioni per cui camminavano verso Santiago. Senta, stiamo vedendo proprio delle immagini di repertorio del luogo che lei ha raggiunto. Come si torna da questa esperienza, Monsignore? È un'esperienza un po' particolare, perché il cammino ti dà il tempo di pensare, di riflettere, e in modo particolare si pensa alla propria vita. Io ho provato nel primo pellegrinaggio, ecco, mi tornavano in mente tutte le esperienze avute da bambino, eccetera, man mano che andavo avanti, vedevo questo, quest'altro, e mi ricordavo della mia vita, così. Si fa una riflessione su se stessi, ecco, mi pare che questo sia importante, ecco, riflettere su se stessi, sulle esperienze che sono avute, si impara, si vedono gli errori, si vedono le cose che sono riuscite bene, ecco, è un po' come un grande esame di coscienza che tu fai durante il pellegrinaggio. L'ha fatta a piedi e in bicicletta? Sì. Ecco, a parte la fatica più o meno, qual è quello che ha preferito di più? Beh, sono diversi tutti e due, sono diversi, mi piacciono tutti e due, questo, come dicevo, è stato più impegnativo, questo secondo, perché le tematiche che dovevo trattare con le persone per le quali ero interpellato sono tematiche importanti nella vita. Mi hanno dato l'occasione, ecco, di esprimere non soltanto quello che so teoricamente, ma di esprimere anche quello che io ho provato nella mia vita. Ormai sono 54 anni che io sono sacerdote, e pertanto c'è un'esperienza grande, un cammino che ho fatto nella vita, che è stato un cammino di acquisizione, di tante esperienze, di trasformazione, anche perché, avrei detto messa nel 1966, a ora, sono tanti anni passati, e c'è stata una grande trasformazione sia nel mondo che nella Chiesa, per cui abbiamo vissuto passo passo, gradino per gradino, abbiamo vissuto tutti questi anni, per cui ho messo a disposizione anche questa mia esperienza di pastore nella Chiesa, ecco, nelle varie parrocchie, come si vivono tanti momenti, e penso che la vita di un parroco sia una vita bella, impegnativa, sì, ma che ti arricchisce molto, perché a contatto continuo con la gente hai molto anche da imparare e hai molto anche da dare contemporaneamente. Senta, Duomo, adesso stiamo vedendo le immagini di Archivio, è rimasto vuoto per tanto tempo, adesso che sensazione le fa avere un'altra volta le sue pecorelle? Direi, nella prima volta ero emozionato, dico la verità, l'ho detto anche alla gente, ma anche la gente, faceva vedere, sicché vedevo gli occhi di qualche persona a luce di poter tornare a celebrare insieme. Per noi è importante la vita comunitaria, no? E che trova il suo centro, l'apice, proprio nella celebrazione dell'Eucaristia. Ancora c'è un po' di paura, non sono tornati tutti quelli di prima, c'è stato un calo, a mio parere, ecco, nella frequenza della Santa Messa. In modo particolare vedo la mancanza dei bambini, adesso riprendendo la scuola, magari sono tornati dalle vacanze, allora riprenderanno, io spero. Cominciamo anche il catechismo, infatti sono diversi che mi chiedono quando comincia? Quando comincia? Dobbiamo seguire determinate norme, naturalmente, ci siamo attrezzati, abbiamo combinato, eccetera, allora al fine del mese riprenderemo il catechismo e poi più avanti celebraremo l'Eucaristia con i bambini, eccetera, prima comunione, prima confessioni, eccetera, che non abbiamo potuto fare a maggio come eravamo soliti fare. Senta, dicevo di queste 100 pagine quando si dovrebbe concretizzare questa opera? Io spero, siccome l'ho fatto durante il tempo del coronavirus, ho avuto un po' di tempo, diciamo l'ho scritto, adesso metto insieme anche quello che stavo vivendo in quel momento di coronavirus, anch'io nel mio rapporto con i parocchiani, i messaggi che mandavo, eccetera, devo mettere insieme, l'ho già scritto, penso che in primavera, ecco, potremmo pubblicarlo. Ecco, diceva prima che mandava dei messaggi, avete fatto anche delle celebrazioni via internet, no? Beh, in streaming, sì, ogni giorno c'era la messa alle 8 e c'erano alcune persone che sono abituate a venire alla messa al mattino che partecipavano. In modo particolare, ve l'ho detto alle famiglie che hanno bambini, avrei celebrato la Santa Messa la domenica sera. C'erano circa 70 persone, 70 bambini, diciamo, del catechismo, che seguivano la messa alla sera via streaming, ecco, la domenica. Ecco, voglio dire, lei ha dovuto adeguarsi? Certo, certo, il dover celebrare da solo, o con una o due persone, no? Che partecipavano, una chiesa semibuia, perché si illuminava soltanto sul coro, logicamente, no? Sul presbiterio. E fare ogni giorno una piccola omelia, con la chiesa vuota, era una difficoltà, poi magari piano piano ci si abitua, ma non avendo le persone che guardi in faccia, che reagiscono, che riscontri, è un po' difficile, è un po' difficile. Comunque, siamo andati avanti. Senta, è un'esperienza che rafforza? Ah, certo, io credo che tutte le difficoltà che incontriamo nella vita possono essere dei gradini sui quali noi saliamo, irrobustiscono la volontà, irrobustiscono interiormente. Ecco, se non ci sono difficoltà, io credo, nella vita, non si cresce, si resta sempre al medesimo piano. Monsignore, grazie, torni quando vuole, magari aspettiamo la copertina, così la mostriamo in anteprima. D'accordo, va bene, grazie a voi. Grazie a Monsignor Luciano Nobile, ricordiamovi caro del Vesco per quello che riguarda Udine e l'Interland. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi c'è ancora un po' di rassina stampa. Grazie a Monsignor Luciano Nobile, Grazie a tutti.